Mi dà la comunicazione con Londra? Vorrei Mr. Churchill! È Mr. Churchill personalmente all'apparecchio? Yes! Mr. Churchill, ditemi una cosa, la guerra come va? Oh, Miss, tutto va bene, tutto va assai bene, oh yes, all right, della Polonia! Non c'è più traccia, anche la Francia, cambio la faccia, il Lussemburgo è cancellato, Olanda e Belgio, tutto occupato, in Danimarca cacà, più non si sbarca cacà! Del norvegese, le avete prese, come vedete va assai bene, anche Parigi ne conviene, Tutto va bene, tutto va bene!